Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a fare un video su Coinbase, ma prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Allora, prima di iniziare a parlare soprattutto del metodo di guadagno che c'è ovviamente all'interno di Coinbase, vi invito più che altro a iscrivervi al gruppo Telegram di Topcoin Italia, ragazzi. Mi raccomando perché lì metterò metodi di guadagno interessanti, soprattutto amatoriali, che non ho mai portato all'interno di questo canale. Lascio il link sotto in descrizione del gruppo Telegram. Allora, detto questo, iniziamo subito. Allora, premetto che io Coinbase non l'ho utilizzato, l'ho utilizzato completamente, diciamo, sì e no, massimo 10 volte. Ho appena visto che non ti sei iscritto al canale. Che cosa aspetti? Attiva la campanella, iscritti al canale e soprattutto guarda i nostri contenuti perché ne vedrai veramente delle belle. Mi raccomando, e diciamo che è un ottimo metodo di guadagno soprattutto per guadagnare criptovalute gratis. Questo perché? Perché allora, tralasciando il fattore soprattutto del bonus in sé, infatti ora ve lo faccio vedere più che altro, eccolo qua, Qua possiamo andare a guadagnare 9€ barra 10€ in cripto gratuitamente, solamente invitando praticamente una persona, ovviamente questa cosa si può fare con molte più persone, e dobbiamo praticamente invitare questa persona. Riceviamo entrambi 9€ in bitcoin gratis, quando praticamente acquistano o vendono per la prima volta almeno 89,67€ su Coinbase. Quindi questo bonus, vero o male, è anche ottimo ragazzi, perché tanto basta andare soprattutto ad acquistare una cripto, diciamo che completamente easy, e possiamo già praticamente riscuotere il bonus di 9€. Vi faccio l'esempio, possiamo andare a comprare ad esempio bitcoin, oppure più che altro andare a studiare, soprattutto il mercato com'è l'altcoin season, se è bitcoin season o meno, quindi se vediamo che praticamente siamo in bitcoin season completamente giù ragazzi, è ovvio che possiamo andare a comprare, quanti sono? 90€, facciamo 90€ per arrotondare una cripto, facciamo bitcoin, tanto in bitcoin diciamo che cresce, ragazzi cresce, soprattutto con quel tool che vi ho detto io, che c'è anche all'interno del video, praticamente trailer del canale. Infatti ragazzi, prima di investire soprattutto, vi invito più che altro a vedere quel video, perché c'è quel tool che è veramente utilissimo. Poi in questo caso, se vogliamo andare a guadagnare questi 9€ senza fare nulla, ovviamente ragazzi si può fare, basta andare lì e vedere se è l'altcoin season o meno. Vi faccio vedere io più che altro, basta che vado qua, eccolo qui, attualmente possiamo già entrare, perché siamo in bitcoin season, quindi il mercato può solamente aumentare, o se scende ovviamente possiamo perdere un pochettino di quella quota, però ragazzi guardate qui che soglia di miglioramento che c'è, ovviamente in questo caso, in questi giorni soprattutto, si può fare tranquillamente. Ma ritorniamo su Coinbase, perché su Coinbase ci sono veramente diversi metodi di guadagno. Allora, siamo qui, qui dobbiamo creare il conto, praticamente ti lascio il link sotto in descrizione, creare conto, verificare i dati e aggiungere il metodo di pagamento. Poi bisogna acquistare cripto, che io ancora non ho fatto, proprio per farvi capire. Qui ci sono le cripto che noi abbiamo, io ho più che altro queste cripto, ma così, just for fun, non è che mi metto a investire su Coinbase. I soldi che ho guadagnato su Coinbase, praticamente, li ho convertiti in altre cripto, cosa che è ottima ragazzi. Ad esempio, io, a me mi piace variare più che altro, crypto.com ce l'ho qui, ma ce l'ho anche sull'exchange di CRO. Apecoin ce l'ho qui, ma ce l'ho anche sull'exchange ovviamente di CRO. Shiba Inu ce l'ho su Binance, quindi, praticamente, ho diverse cripto in diversi exchange. Poi, ovviamente, qui possiamo andare a vedere più che altro le transazioni, possiamo effettuare le nostre transazioni, quindi, qui è veramente, diciamo, facile da capire. Possiamo andare a fare anche il trading avanzato, quindi, eccolo qua, facciamo Bitcoin ed Euro. Vedete qui, ragazzi, come è migliorato, soprattutto, con l'ultimo aggiornamento Coinbase. Veramente, veramente facile da utilizzare, quindi, completamente easy. Poi, un altro metodo che è ottimo, soprattutto, per guadagnare. Andiamo qui, facciamo, ok, lo scendo subito. Vi faccio vedere, per te, qui, praticamente, ci sono le, più che altro, le notizie, le news di quello che si dice nel mondo cripto. Poi, possiamo andare anche a imparare, quindi, a prendere. Qui, ovviamente, è anche utile, ragazzi, perché cos'è Ethereum, cos'è Bitcoin, alle prime armi, è ottimo. Poi, c'è anche un modo per guadagnare, completamente easy e gratuito. Penso che, solamente con questo modo, praticamente, possiamo andare a guadagnare più di 30€. Basta andare qui, apprendi e guadagna. Poi, ovviamente, ragazzi, sul smartphone è più easy, quindi è molto più facile. Qui ci sono funzioni che non ho mai visto. No, sto scherzando, comunque, basta andare su More e andare su Apprendi e guadagna. Ad esempio, qui ho guadagnato 4$ in TeGraph. Qui ho guadagnato 3$ in... Poi, qui, ovviamente, ci sono veramente tantissime cripto che ho guadagnato, ma ancora non mi sono uscite, perché, se non sbaglio, ho tutti i soldi che ho, praticamente, in questo conto, ragazzi, a parte certi li ho anche prelevati, sono completamente... non sono soldi di me, sono soldi di Coinbase. Quindi, capite bene che, ovviamente, tutti questi soldi li ho guadagnati gratuitamente. Poi, qui, possiamo andare ad acquistare e vendere, ma io, come ho già detto, non ho caricato ancora, non ho messo il metodo di pagamento, proprio per farvi capire che non ho fatto completamente nulla in questo sito e ho guadagnato tutti quei soldi. Qui possiamo convertire le nostre monete. Ad esempio, se vogliamo convertire CRO, andiamo, ad esempio, su ApeCoin, è fattibile. Oppure, se vogliamo scambiare Shiba e andare ad acquistare nuove monete, Axie Infinity, ad esempio, si può fare tranquillamente. Quindi, più che altro, questo Coinbase è ottimo, soprattutto per sia i bonus, ragazzi, cosa che vi consiglio da fare, sia soprattutto a prendere guadagna anche, ma la cosa più importante è andare ad acquistare questi, diciamo, 90 euro in cripto e poi andare a guadagnare questi 9 euro completamente easy in Bitcoin che poi voi siete liberi di holdare o meno. Li potete anche prelevare su PayPal e dove voi volete. Ok, ragazzi, per questo video è tutto. Se questo video vi è piaciuto, vi invito, come sempre, iscrivervi al canale e attivare la campanella, non perdervi ulteriori contenuti del genere. Per oggi è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao e a presto!